Chiara Ferragni e Fedez sono ormai ai ferri corti da tempo. Dopo la separazione le loro strade sono state sempre divise e solamente negli ultimi giorni avrebbero avuto un incontro personale, assieme ai rispettivi avvocati, dove la tensione sarebbe aumentata ulteriormente. Infatti, l'imprenditrice digitale ha chiesto una cifra per il mantenimento, ma lui avrebbe risposto con un'offerta che l'ha fatta innervosire. Nei giorni scorsi era emersa l'indiscrezione che Chiara Ferragni dovrebbe avere la custodia dei figli, con Fedez che pagherebbe solamente spese mediche e scolastiche di Vittoria e Leone. Ma il mantenimento sarebbe stato rifiutato dalla donna perché la proposta del rapper originario di Milano sarebbe stata ritenuta totalmente inadeguata. Chiara Ferragni e Fedez, quando avrebbe offerto lui per il mantenimento, l'ira di lei. Mentre ne stavano discutendo con i legali, Chiara Ferragni avrebbe avanzato una richiesta ben precisa stando al sito di Linger News di Fabrizio Corona. L'influencer da oltre 28 milioni di follower avrebbe chiesto una somma di denaro pari a 20.000 euro al mese. Gli avvocati di Fedez avrebbero subito detto di no e avrebbero fatto una controproposta, che lei non avrebbe preso in considerazione. Fedez, tramite i suoi difensori, avrebbe offerto tra 5.000 e 6.000 euro al mese ma Chiara avrebbe declinato l'offerta. Sempre stando alle affermazioni di Fabrizio Corona, ci sarebbe stato un errore da parte della Ferragni, la quale si sarebbe fatta sfuggire che, avrebbe svariati milioni di euro in banca. E quindi l'accordo non ci sarebbe stato. Le trattative sembrerebbero essere sempre più complicate, quindi staremo a vedere come andrà a finire la questione Ferragni-Fedez.